Mi chiamo Mauro Cerilli, ho 30 anni, vengo da Terracina, faccio MMA da tre anni, mi alleno tutti i giorni, come trovo tempo con il mio coach di lotta Vincenzo Torre, il mio maestro di striking Alessandro Dolone, faccio allenamenti vari, allenamenti di pesi, allenamenti di grappling submission, allenamenti di tie box, kickboxing e anche allenamenti funzionali che non si usano più da un po' di tempo. Il mio avversario è un avversario forte, uno striker, lo conosco, lo rispetto, sarà una bella lotta, non ho tattiche in particolare, vedo cosa mi fa e rispondo come faccio sempre, senza problemi, avviso aperto. Io sono Tomas Simonič, sono da giù in direzione, ho già 19 anni, ho già 6 maggi, 3 maggi in un'impegni di stagione, ho già stato un'impegno, ho già stato un'impegno, ho già stato un'impegno in un'impegno che ho fatto il precedente due mesi, ho detto che ho detto Mauro Cerilli, Mauro Cerilli, guardatevi se! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sedimi sopra e colpisci adesso bravo ma Mauro più base senza base non colpisci voglio una base vai vai dalla base vai colpisci non lo diamo non ti ne ho la niccia vai vai due minuti due minuti vai colpisci ok vai 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 la base ecco che sta piccola qui tanto a base tanto a base con una mano lo schiacci con una mano lo schiacci con l'altra con l'orecchio all'orecchio Mauro una mano lo schiacci e l'altro lei parto ma Mauro ok rischiaccia di nuovo rischiaccia capisci Mauro Mauro due gol evidentemente a posto non ne voglio bravo controlla Mauro due gol fine di come in casa un minuto scatto c'è minuto a tolare c'è minuto Mauro non ci sta capendo più niente no non c'è minuto non c'è minuto non c'è minuto no c'è minuto No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.